Sono Franco Baresi, volevo fare un in bocca al lupo a tutti i partecipanti al Safe Cup. Vi invito anche a sostenere gli amici di Save the Dream, un progetto a favore di Amatrice Calcio, non avendo neanche il campo dove allenarsi. Noi ci stiamo già pensando e impegnando con Fondazione Milan. Grazie ancora e un abbraccio.